Presidente, sull'Ucraina, il Presidente Zelensky intervenendo ha usato delle parole dure, ha parlato di umiliazione, insomma quello che ha fatto questo Consiglio sarà sufficiente? E poi le volevo chiedere sul clima di questo Consiglio, per dirla alla romana, è stato un clima da ragazzi o da onorevoli? Da giovani onorevoli, come ho già tentato di strammatizzare in aula, è stato un clima abbastanza sereno, poi certi temi sono sempre estremamente complessi sull'Ucraina e chiaramente noi continuiamo a fare tutti gli sforzi possibili e anche questo Consiglio europeo delle risposte le dà, le ripeto, l'accordo sullo European Peace Facility non era un accordo facile, però ogni Consiglio europeo si fanno dei passi in avanti e anche l'Italia sta facendo tutto quello che può, insomma noi siamo molto molto convinti di quello che stiamo facendo per costruire pace, per difendere il rispetto delle regole senza il quale purtroppo nessuno sarebbe più al sicuro, quindi chiaramente non è una situazione facile per nessuno e capisco le difficoltà, però mi pare che davvero ce la stiamo mettendo tutta.